buon di ragazzi fra poco si parte per nuove avventure marine qua patto dalle montagne dalla città di Enna mille metri sopra il livello del mare ma vi volevo fare vedere cosa poi vi mangerò dopo una bella battuta di pesca impegnativa e stancante ora vi faccio vedere quale sarà il mio spuntino dopo la pesca su e vai ragazzi e vai un panino con il polpo abbiamo il mare qua in montagna che spettacolo si sente profumo di mare qui in montagna ci vediamo in mare ragazzi ed eccomi qua ragazzi sono sceso da qualche oretta da dove abito in montagna è una premura incredibile ma non per entrare in acqua per carità quello anche non vedo l'ora di entrare in acqua di farmi la battutella di pesca e dopo la battutella di pesca mi aspetta il mio meraviglioso panino con il polpo fresco ragazzi che spettacolo ma posso resistere ma se me lo mangio prima ma devo resistere devo resistere perché poi servirà per recuperare tante energie quel meraviglioso panino va bene ragazzi buon blu sempre e buon panino affittati a me non vedo l'ora grazie a tutti 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 ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti